Se volete contezza di quello che ho raccontato vi consiglio sicuramente di vedere il diritto di contare che racconta questa carriera strepitosa delle donne afroamericane negli Stati Uniti ancora ai tempi della segregazione raziale oppure c'è un altro film che si chiama I want sex che invece parla dell'equità dei diritti delle donne quindi anche il diritto di scioperare all'epoca dell'industrializzazione Inoltre vorrei dirvi che sul canale Instagram della Mala Femmina ogni settimana facciamo una rassegna di cinema queer e il prossimo film sarà Promising Young Women quindi potete partecipare alle nostre discussioni Grazie! 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 Grazie!